Posso creare dei promo code? Ah che bella domanda, questa che numero è mai stata fatta? Non mi ricordo che se fosse stata fatta o meno Ma la risposta è certamente sì, puoi creare dei promo code Cosa sono i promo code? Sono dei coupon, sono dei codici promozionali che modificano il prezzo o le condizioni di acquisto Come possono funzionare? Possono abbassare il prezzo in percentuale o con un valore Cioè io posso dire che il mio prodotto costa 100% ma se tu utilizzi il promo code nuovo cliente Allora in questo promo code ti dà uno sconto del 10% È molto utilizzato, ad esempio ci sono molte aziende ad abbigliamento e e-commerce Che se tu ti iscrivi alla loro mailing list ti inviano un codice sconto per farti fare il primo acquisto Per cercare di convertire il lead in un cliente vero e proprio Si applicano a prodotto singolo o al price point Cioè tu puoi dire che questo coupon è valido per tutti quelli che comprano la penna Oppure tutti quelli che comprano la penna al prezzo 2 Perché in questo caso tu magari dici io il prezzo 2 ce l'ho su questa pagina La penna invece la vendo anche su altre pagine o in altre modalità Sta di fatto che il coupon code può essere applicato sia al singolo prodotto sia al totale del prodotto O al singolo price point Altre condizioni I coupon code possono scadere Possono scadere in base al tempo o al numero di vendite Oppure restare sempre attivi E quando scadono tu devi dire ad esempio Se scadono in quella data o scadono dopo 10 vendite Al price point 5, al price point 20 Oppure a tutti i price point Sta di fatto che il coupon code abbassa il prezzo In percentuale o a valore totale Può abbassare ad esempio solo per le prime vendite Solo dal secondo acquisto Mettiamo il caso tu potresti dire che il prezzo di Il coupon code si applica solo al primo pagamento Se è un abbonamento I successivi sono a prezzo normale In questo modo potresti creare delle logiche per cui paghi il 50% alla prima volta E poi le volte successive paghi il prezzo pieno Oppure potresti dire che si applica a tutti i pagamenti tranne il primo Quindi ci sono diverse logiche che ti permettono di applicare questi coupon code Per creare anche delle argomentazioni di vendita Che portano la tua attività a creare urgenza E a cercare di convertire il più possibile lead in clienti E a cercare di vendita